Chi era, anzi chi è Guido Rossa? Uno che ragionava con la propria testa, un operaio dell'Italcider di Genova, comunista, sindacalista. Aveva denunciato un compagno, Franco Berardi, che nascondeva volantini delle Brigate Rosse in fabbrica. Berardi fu arrestato e Rossa, 45 anni, testimonio al processo. Il 24 gennaio 1979 un commando di tre brigatisti lo aspetta sotto casa e quando esce per andare al lavoro gli spara quattro colpi alle gambe e uno al cuore. Tre giorni dopo, al funerale partecipano 250.000 persone. Pertini dice ai camalli del porto Non vi parla il Presidente della Repubblica, vi parla il compagno Pertini. Io le Brigate Rosse vere le ho conosciute. Hanno combattuto contro i fascisti, non contro i democratici. Oggi a Genova ha preso la parola Mattarella. Guido Rossa, un indugio, a domandarsi se toccasse proprio a lui contrastare il terrorismo. Seppe battersi per tutti, anche per chi preferiva fingere di non vedere. Assumersi delle responsabilità è difficile e può diventare pesante. Ma l'Italia, a partire dalla resistenza, si è basata su questa capacità nel suo progredire. Commemorare Rossa e tanti altri uccisi negli anni di Piombo significa fare i conti con il presente. Mattarella ricorda che due giorni fa, proprio a Genova, è morto un altro operaio, Eros Ciniti. I lavoratori italiani sono stati i costruttori della Repubblica. La fabbrica è stata motore di sviluppo, è scuola di democrazia. Il terrorismo disumano e totalitario la voleva piegare alla sua propaganda di violenza e di morte. Quel tentativo è stato respinto, battuto dal popolo. La battaglia per la libertà, tuttavia, non concede tregua. I fantasmi del passato sono sempre in agguato. Tant'è che oggi, sul muro di Genova, sono comparse scritte inneggianti alle VR e contro Guido Rossa. Occhi aperti, dunque, pronti a rifare lo stesso cammino.